E con la prima domenica di avvento il vicariato di Galliera entra nell'anno del congresso eucaristico vicariale che avrà per tema il comando del Signore, fate questo in memoria di Messa. Sabato sera alle 20.45 in tre zone diverse del vicariato si terranno altre tante veglie di preghiera che saranno presedute dai sacerdoti del seminario arcivescovile. L'appuntamento è nelle parrocchie di Argelato, San Pietro in Casale e Minerbio dove sono invitate a confluire le comunità vicine. Il vicariato ha predisposto un ricco calendario di iniziative pastorali fino alla conclusione del congresso che avrà luogo l'11 ottobre prossimo a San Giorgio di Piano.